Amici di Passione Tennis, bentornati sul canale. Due italiani per la prima volta nella storia ai quarti di finale degli US Open. Berrettini e Sinner ce l'hanno fatta, hanno battuto i loro rispettivi avversari. Berrettini, diciamo, non ha giocato benissimo, ha trovato un fochino veramente in forma, ma meno male che nel quarto set è calato fisicamente, poi si è anche infortunato e quindi è riuscito a sfangarla così, mettiamola così. Certo è che contro Rood, prossimo avversario, per arrivare alle semifinali dovrà alzare veramente il livello, sia su servizio, il rovescio veramente che contro Fuchina ha funzionato ben poco. E' vero anche che, come ha detto Berrettini all'intervista dopo partita, New York cambiano le condizioni climatiche veramente da un giorno all'altro. Quando ha giocato l'altro giorno c'era un'umidità pazzesca, 31 gradi. L'altro giorno invece era più ventilato. Queste partite invece, diciamo, del serale si sono giocate col tetto coperto per la pioggia, quindi cambiano veramente un sacco le condizioni. Comunque Berrettini contro Rood, oggi alle 18, ora italiana, mi raccomando, da non perdere perché speriamo, speriamo, non dico nulla, speriamo. Dopodiché Sinner invece ha battuto al quinto set in vasca, bravo Sinner. Purtroppo la partita si è giocata notte tarda, o mattina presto, quindi non ho potuto seguirla, ma va bene così, va benissimo così. L'importante è che Sinner abbia vinto, o in tre o in cinque, l'importante è vincerla. Prossimo avversario Alcaraz, attenzione, si ripete questa sfida, evidentemente, ma perché si incontrano sempre, diciamo, verso, sul finale dei grandi tornei un motivo ci sarà. Ovviamente Alcaraz favorito, anche se Sinner ha vinto gli ultimi due scontri diretti, sia sull'erba che sulla terra, ma Alcaraz avrà il dente avvelenato, è molto in forma, ha battuto comunque Cilicci in cinque set. Tra parentesi, al quinto set Alcaraz aveva un break di svantaggio, l'ha recuperato e poi ha chiuso, insomma. Quindi sicuramente è una partita da seguire, tra i due giorni più promettenti, insomma, sicuramente del panorama internazionale. Purtroppo ci potrebbe stare che Sinner perda questa partita, dopo, d'altronde, Alcaraz è sempre il numero quattro del mondo, quindi non è che sta giocando contro l'ultimo degli stupidi, anche se l'ha battuto, ripeto, gli ultimi due scontri diretti. Però a maggior ragione Alcaraz avrà il dente avvelenato e venderà ancora più cara la pelle. Speriamo, perché per Sinner questa, per arrivare in una semifinale slam è veramente un'occasione d'oro. Speriamo, anche qui non dico nulla, speriamo. Dopodiché, mentre ieri che non ho fatto il video, cosa è successo? Che Kyrgios ha battuto Medvedev e per molti è una sorpresa, per me no. Perché Kyrgios è molte volte abbattuto Medvedev, l'anno scorso o prima che iniziassero gli Australian Open. Poche settimane fa, insomma, pochi giorni fa, prima che iniziassero gli US Open, l'aveva battuto. Perché sappiamo che Kyrgios ha il gioco per far male a Medvedev. Ma soprattutto Medvedev non è il Medvedev della finale degli Australian Open, insomma. O della vittoria dell'anno scorso degli US Open. È molto calato, ormai lo conoscono bene sul circuito e non vedo grossi miglioramenti fatti da un anno a questa parte. Gioca sempre uguale, non vedo grossi miglioramenti. Quindi, ecco quando vi dico, quando il giocatore è già al top e non può migliorare più di tanto il gioco, vedete che succede. Dopodiché Kyrgios, chiaramente, dopo la finale di Wimbledon, è chiaramente il molto più consapevole dei suoi mezzi. Non è più il Kyrgios che buttava via le partite. Fa ancora qualche, chiamiamola, stupidaggine. Però è sicuramente un altro Kyrgios. Dall'altra parte, l'altra sorpresa di, insomma, questa edizione degli US Open è la vittoria di Tiafoe su Nadal in 4-7. Nadal che chiaramente ha sempre i suoi problemi fisici. Tiafoe sappiamo che quando gioca, soprattutto con il pubblico a suo favore, inizia a fare il suo show, è un giocatore molto, molto, molto pericoloso. Questa volta a farne le spese è Nadal. Detto questo, speriamo, insomma, abbiamo per la prima volta due italiani ai quarti di finale di US Open e mi fermo qui. Speriamo, speriamo che, insomma, vadano più avanti, sicuramente. E soprattutto, tolto Nadal, tolto anche il russo nella parte superiore. Insomma, io vedo un US Open aperto a tutto. E sicuramente a questo punto ci sarà un vincitore slam che... Un nuovo vincitore slam. Non mi sembra che ci siano altri ex vincitori slam a questo punto. Semifinalisti sì, ma vincitori no. E quindi... È tutto aperto, ragazzi, è tutto aperto. Ci aggiorniamo a un prossimo video. E ciao! Ciao! Grazie a tutti.